Il sindaco Cosimo Ferraioli è in aperta polemica con i vertici provinciali per la decisione di diminuire i conferimenti e consentire una maggiore quota di smaltimento da parte di un altro comune dell'agro nocerino. Una scelta che penalizzerebbe, secondo Ferraioli, comuni maggiormente virtuosi, con una percentuale di differenziata nettamente superiore, costretti ad avere strade sporche durante il periodo natalizio. Perdere un giorno di conferimento per consentire ad un altro comune di rimuovere una maggiore quantità di rifiuti dalle strade costringerebbe anche l'azienda speciale comunale Anglieco Servizi a non poter più conferire allo stir di battipaglia nella giornata del mercoledì. È arrivata una nota dello stir di battipaglia con la quale si rappresentava lo stato di difficoltà dell'impianto stesso per una saturazione dell'impianto, motivo per il quale alcuni comuni, diciamo i comuni più popolosi della provincia che appunto utilizzano lo stir per lo smaltimento, dovranno essere in qualche modo impoveriti. Nel senso che noi dovremmo, insieme al comune di Salerno, Eboli, Battipaglia, Cava e Scafati, perdere uno scarico, cioè quindi una volta a settimana non possiamo andare a scaricare il rifiuto raccolto. Questo perché ci sono difficoltà oggettive rappresentate da un altro comune che comunque utilizza lo stir, che è un comune nostro vicino, e quindi dobbiamo subire questa difficoltà per cui ci ritroveremo con, diciamolo senza troppi giri di parole, con la spazzatura a terra per un mancato funzionamento di un impianto rispetto al quale non possiamo incitire in alcun modo. Abbiamo peraltro chiesto a questo impianto, che è di proprietà dell'Ecoambiente e dunque della provincia di Salerno, che è socio unico, di poter essere autorizzati a utilizzare un altro impianto, magari regione che c'è, ci sono altri impianti, e non ci hanno risposto. Adesso riproporremo la richiesta. Il problema è che noi dobbiamo per forza rivolgerci allo stir, ma dobbiamo essere impoveriti nel trasporto, nello scarico materiale dei rifiuti e non possiamo fare altrimenti. Quindi è una forzatura che non dipende dalla volontà dell'ente. Grazie.